Buongiorno a tutti ragazzi, scusate se non mi sono fatto vedere prima ma volevo cercare di capire abbastanza bene quello che era stato pubblicato nelle motivazioni del ricorso in cui la Juventus era riuscita ad avere un annullamento con rinvio giudizio e quindi ora vedremo questo rinvio giudizio che cosa ci dirà ma al 99.9% la Juventus avrà una nuova penalizzazione in classifica se proprio devo lanciare un dado e indovinare a seconda del numero uscito i punti che la Juventus avrà di penalizzazione vi dico 9, 9 perché è un numero abbastanza magico nella vicenda erano 9 infatti i punti di penalizzazione richiesti per la Juventus per la prima indagine e poi magicamente sono diventati 15 perché era meglio così e molto probabilmente sarà anche 9 il massimo dei punti attribuibili alla Juventus proprio perché comunque la sentenza di annullamento con rinvio alla fine ha semplicemente detto che 15 punti erano troppi io vi dico la verità sono sorpreso dalle motivazioni che ho letto e badate bene ho deciso di prendermi un po' più di tempo e rimandare il video perché secondo me non aveva veramente senso mettermi qua magari registrare un video di notte perché ieri sera poi io ero a giocare il lunedì sera io sono a giocare sono uscite le motivazioni mentre mi stavo infilando un calzettone quindi non avevo proprio il tempo fisico per leggere in quel momento al termine della partita ho detto leggermi ora 75 pagine e registrare di notte solo per portare un video prima non ha minimamente senso e vi devo dire sono sorpreso da quello che ho letto intanto perché è confermata la paura più grande che avevo ora ve lo dico subito sono tanti argomenti che ho toccato un bel po' negli ultimi mesi quindi cercherò di riassumere quanto più possibile se non capite alcune dinamiche vi rimando agli altri video che ho pubblicato sulla questione le trovate comunque all'interno del canale qualcuno magari provo a linkarvelo qui sopra nelle schede quindi non andrò nello specifico a spiegare ogni singolo punto semplicemente perché se no verrebbe un video di 15 ore e già rischiamo di fare un contenuto abbastanza lunghetto anche saltando dei pezzettini e quindi la paura più grande che avevo era il veder confermato questo articolo 4 all'interno di queste motivazioni ed è stato così quindi che cosa succederà adesso succederà semplicemente che si tornerà a fare un nuovo procedimento contro la Juventus e verranno appunto selezionati dei nuovi punti di penalizzazione da applicare alla Juve e attenzione perché se da una parte c'è ancora questa nuvola nera sulla Juventus e dall'altra c'è il temporale in lontananza che arriva legato appunto al discorso legato agli stipendi non siamo in una bella situazione non siamo in una bella situazione anzi vi dico dalle motivazioni la Juventus ha perso se quel fine aprile vi dicevo comunque l'annullamento con rinvio è una sorta di vittoria per la Juventus leggendo le motivazioni il CONI non ha praticamente mai toccato quello che era stato il primo dibattito della procura e le conclusioni della procura le uniche cose che hanno ritenuto abbastanza sceme scritte nel primo provvedimento della procura sono tipo le valutazioni con transfer market dove anche il CONI dice quello è sì uno strumento di valutazione dell'ora è un calciatore ma non è lo strumento di valutazione del calciatore perché? perché già nel maggio del 2022 Juventus era uscita indenne da un procedimento legato alle plus valenze proprio perché non c'è un vero e proprio metodo per stabilire la valutazione di un calciatore non c'è non esiste e quindi quindi qualcuno dirà ma sì e allora perché Juventus è stata punita ripeto l'articolo 4 che il CONI conferma inserisce comunque all'interno delle motivazioni e da qui appunto si aprirà il nuovo processo che darà dei punti di penalizzazione a Juventus che possono essere uno due tre secondo me fino a nove secondo me da uno a nove e quindi vi ripeto secondo me sarà nove perché? perché però Juventus è stata comunque ritenuta colpevole al collegio di garanzia del CONI? beh intanto vi dico che Juventus non fosse uscita completamente innocente lo sapevamo già dal giorno in cui era uscita la sentenza di annullamento con rinvio perché comunque bastava leggere l'avevano già detto anche qua sul canale anche su Twitter e su Instagram il ricorso respinto nei confronti di Agnelli, di Paratici, di Arriva Bene, di Chirubini che sono rimasti inibiti e quindi significava che comunque anche il collegio di garanzia del CONI aveva trovato delle irregolarità nei confronti di questi tesserati ora io non voglio andare nel dettaglio a parlare di questa cosa qua perché secondo me c'è qualcosa di più importante lato Juve quindi nel caso vi rimando alle 75 pagine pubblicate sul sito del CONI che è coni.it andate all'interno della cartella media vi trovate il pdf di 75 pagine andatevi a leggere questa roba se siete interessati appunto al discorso dell'attivo a Paratici e Agnelli che vorrei lasciare un attimo da parte perché dicevamo la Juventus quindi è stata ritenuta colpevole? beh lo sapevamo già nel senso che anche il CONI va a ripescare quella che era stata appunto la sentenza principale della Corte Federale d'Appello e cioè il fatto che Juventus avesse creato un sistema per cercare di alterare i valori contabili i valori individuali dei determinati giocatori all'interno dei trasferimenti che avrebbero poi portato all'alterazione dei bilanci e allora Juventus sei colpevole però che cosa succede? che in questo caso in questo caso non si va all'interno dell'articolo 4 che prevede una penalizzazione in classifica è semplicemente una penalizzazione un'ammenda come previsto dall'articolo 31 allora perché c'è questo articolo 4? prima di rispondere a questa domanda però voglio leggervi un passaggio che secondo me è clamoroso bellissimo all'interno delle motivazioni perché a un certo punto mi pare a pagina 22 c'è l'elenco di alcune società che hanno fatto affari con Juventus e quindi si dice non sussistano evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l'accusa nei confronti delle società Sampdoria Provercelli Genua Parma Pisa Empoli Novara e Delfino Pescara come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati quindi cosa significa? che Juventus queste plusvalenze se le fatte da sole? no assolutamente no e sia la Corte Federale d'Appello sia il collegio di garanzia del CONI ti dicono chiaro e tondo ma attenzione la plusvalenza è lecita la plusvalenza la puoi fare tu puoi comunque valutare diversamente un giocatore anche di più di quello che è il suo valore reale perché effettivamente non esiste un metodo per cercare di decidere in maniera preventiva il valore di un calciatore non c'è il sito con la tabella vale X vale Y vale Z tu lo valuti quindi non si può punire Sampdoria Provercelli Genua e tutte queste squadre qua le difese l'hanno dimostrato si sono difese bene non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione una condanna di Parma Novara Pescara per il mero contatto con Juventus risulterebbe ingiustificata in assenza di prove oggettive della violazione tradotto va bene ne hanno fatta una dai su tra quelle che abbiamo letto nel filo ce n'era una cosa facciamo andiamo a contestare quest'operazione a queste qua è la Juventus che è entrata in contatto con tutte le altre allora qua si apre un mondo allora andiamo a vedere nell'arco di quei due anni magari contestati a Juventus le stesse due tre stagioni sportive i vari Sampdoria Provercelli Parma Genoa Delfino Pescara Empoli Pisa quante altre operazioni hanno fatto con altri club perché qua sembra quasi che la Juventus sia il virus e quindi se entri in contatto con la Juventus una volta solo va beh fa niente se c'entri in contatto in più di una volta forse allora è un sistema andiamo a vedere allora le altre operazioni di mercato che hanno fatto con altre squadre andiamo a vedere se ci sono state appunto altre plusvalenze perché una è lecita però di più dopo inizia a diventare un problema perché si crea un sistema e dopo andiamo a vederli ma ancora questo non è il discorso di fondo perché ancora qui sia nell'articolo 31 se vai ad alterare i bilanci e vai ad alterare qualcosa in materia economica ti paghi una semplice multa una semplice ammenda siamo ancora qui allora perché l'articolo 4 perché qualcuno potrebbe venirmi a dire adesso sì ma figa allora possano benissimo aprire un procedimento nei confronti di tutte le squadre Serie A Serie B Serie C tutto il calcio in Italia andare a vedere le operazioni che hanno fatto iniziare a incrociare se hanno fatto determinate operazioni con quello determinate operazioni con quest'altro determinate operazioni con quell'altro allora si crea un sistema e allora scatta l'articolo 4 e no e no e no perché in quel caso scatterebbe il 31 e mal che vada una multa mal che vada una multa allora perché invece alla Juve l'articolo 4 perché alla Juve l'articolo 4 e questi magari anche nel caso una remota possibilità in cui succeda questa roba qui verrà applicato il 31 perché la Juventus voleva farlo la Juventus voleva farlo la Juventus ha alterato i bilanci ha alterato la valutazione di questi calciatori gonfiando il valore consapevole di farlo ma anche questo lo sapevamo già e ancora una volta torna fuori questo discorso che era già venuto fuori e perché sono così consapevole del fatto che Juventus volesse farlo beh perché ci sono le intercettazioni telefoniche e nelle intercettazioni telefoniche abbiamo sentito alcuni dirigenti di Juventus che dicevano che il valore di quel giocatore lì comunque era inferiore o più alto rispetto alla reale e perché non possiamo avere intercettazioni anche delle altre squadre per cercare di capire se gli altri valori sono stati gonfiati oppure no semplice perché Juventus era quotata in borsa e quindi sono stati avviati delle indagini perché Consob si è resa conto di qualcosina che non andava nella Juventus abbiamo sottoposto Juventus a intercettazioni ambientali e da queste intercettazioni ambientali che andavano in una direzione non c'entra niente con le plusvalenze abbiamo utilizzato questo materiale per capire sulle plusvalenze ragazzi a me fa alzare i peli così eh a me fa alzare i peli così anche perché ci dicono chiaro e tondo ce lo dicono c'è l'articolo 31 ce lo dicono nelle motivazioni c'è l'articolo 31 per questa roba qui cioè è specifico per questa norma però sai se c'è il 4 che è sulla lealtà e ci viene il dubbio che possa esserci stata la lealtà allora 31 passa la parte ci mettiamo il 4 allora facciamo una cosa la prossima volta facciamo solo il 4 e all'interno del 4 ci mettiamo degli altri piccoli articoli che se però ci gira tanto qua è tutto interpretazione come saranno interpretazioni i punti di penalizzazione 1-9 e interpretazione la pena deve essere afflittiva va bene allora guarda la classifica ah ne mancano 10 per rimanere fuori dalla Champions eh daremo 10 ma come ma non era 9 eh sì però fa lo stesso diamone 10 tanto la prima volta 9 va bene 15 ma ragazzi siamo arrivati a un punto che devi riderci sopra cioè se non ci ridi sopra sta roba non ci puoi fare niente perché io sinceramente ho il sangue nel bene che bolle che bolle e che ribolle perché perché Juventus sta venendo punita per qualcosa che l'è stato contestato d'accordo io non sono nemmeno qui a dirvi oh no cazzo Juventus è stata immacolata limpida non doveva è stato evidenziato che queste plus valenze hanno alterato il bilancio d'accordo perfetto punitemi con quello che c'è previsto del regolamento sportivo fatemi una multa 100 milioni di euro di multa volete farmi 100 milioni di euro di multa fatemi 100 milioni di euro di multa lo potete fare sul regolamento sportivo ma se dovete venirmi a dire che Juventus ha alterato i bilanci e quindi si becca dei punti di penalizzazione per un'altra norma inserita soltanto perché ci sono delle intercettazioni che sulle altre squadre non potremmo mai avere perché non quotate in borsa ragazzi il regolamento sportivo parla chiaro per quelle quotate in borsa e per quelle no e questo è un vero e proprio danno danno a Juventus calcolato voluto questo è un danno voluto nei confronti di Juventus quindi io qualche settimana fa mi ero messo il cuore in pace anzi è da un po' mi sono messo il cuore in pace qualche settimana fa ve l'avevo rivelato secondo me non giocheremo la Champions l'anno prossimo e non giocheremo la Champions l'anno prossimo l'unica speranza che abbiamo davvero di arrivare in Champions è la vittoria dell'Europa League ma 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 non sono comunque convinto perché poi potrebbe apriresi un discorso relativo appunto a quello che è la violazione di determinati fair play quindi un'apertura di un'indagine a Nyon con la UEFA e sicuramente non c'è un buon rapporto in questo momento tra Juventus e UEFA e sappiamo bene tutti il perché e quindi io arrivo a dirvi una cosa che in tutti questi mesi non ho mai detto ma perché non ho nemmeno mai preso in considerazione io se fossi un dirigente della Juventus oggi accetterei semplicemente questa cosa perché ormai non ci possiamo fare niente abbiamo perso l'unica possibilità che abbiamo è andare al Tar ma nel mentre passa del tempo nel mentre il campionato passa nel mentre la Champions non la giochi magari se non vinci l'Europa League e nel mentre e nel mentre e nel mentre e nel mentre e intanto ti porti avanti questa cosa nel mentre hai perso la Juventus ha perso la Juventus ha perso collegio di garanzia corte federale ti dica la stessa cosa sì ci sono stati degli illeciti sì avresti dovuto pagare una multa però facciamo che ti penalizziamo perché secondo noi comunque l'articolo 4 c'entra il riassunto grosso è questo qua la Juventus ha perso cioè non vedo un altro modo di dirlo e dato che dall'altra parte sta arrivando il discorso relativo agli stipendi che per me era molto più grave io vi ho sempre detto io non credo che ci daranno dei punti di penalizzazione per le plusvalenze mi sembra allucinante questa cosa se vanno a punire una squadra per il discorso delle plusvalenze allora dovrebbero aprire un processo in Italia che va a punire tutte le squadre e allora giustamente cosa fanno per non farlo e però noi abbiamo le intercettazioni sulla Juventus e abbiamo la certezza che Juventus volesse farlo mi viene quasi da ridere pensando ai tanti trasferimenti che ho visto nel campionato italiano in questi anni in cui un determinato giocatore veniva valutato di più di quello che era il suo valore reale di quel momento lì di quel momento lì e sono veramente convinto che tutte le squadre che hanno ceduto calciatori in quel momento lì a un valore maggiore fossero convinti che quel giocatore non valesse quella cifra ne sono convinto ne sono convinto e se qualcuno mi dice tifoso magari di un'altra squadra no però faccio un esempio che è il primo che mi viene in mente Casadei al Chelsea 20 milioni 20 milioni li vale allora devi vergognarsi devi vergognarsi devi semplicemente dire sì certo il dirigente dell'Inter che vende Casadei al Chelsea per 20 milioni sa che Casadei in quel momento non vale 20 milioni lo sa perché qua io adesso quasi mi auguro che a un certo punto un certo giorno in un momento determinato qualcuno della Corte federale d'appello il collegio di garanzia nasca qualcosa nei confronti di un'altra squadra e che la stessa squadra venga fregata per lo stesso motivo incastrata per lo stesso motivo nell'articolo 4 perché qui lo si ripete un'altra volta non si sta dicendo che la Juventus non abbia sbagliato perché se viene detto che creare un sistema in cui si fanno delle plusvalenze con altri club non si può fare allora si alza le mani si dice va bene non si può fare perché boh perché comunque se ne fai una va bene ma più no va bene d'accordo chiedo scusa non lo facciamo più allora non lo facciamo più però il fatto che si possa fare però l'importante è non avere intercettazioni in cui si dice che quel giocatore in realtà secondo me valeva di meno però lo vendo di più secondo me non stiamo parlando di giustizia perché bisogna poi tornare indietro e cercare di capire cioè se vuole arrivare a fare giustizia sportiva o a penalizzare e punirla a Juventus perché cioè sono due cose separate sono due cose diverse e dato che vi dicevo qualche settimana fa mai avrei preso in considerazione questa roba qui ma ci hanno incastrato sulle plusvalenze ci hanno fregato ci hanno battuto hanno vinto loro non puoi farci praticamente più niente se non andare al Tar lo faranno sì boh non lo so sinceramente in questo momento nemmeno mi interessa ma dato che sta arrivando anche il discorso stipendi ah ragazzi io sarei addirittura per il patteggiamento e non avrei mai ripeto mai preso in questa situazione questa roba ma dato che la penalizzazione delle plusvalenze verosimilmente immagino sarà in questo campionato sperando che si possano muovere perché manca in quattro partite e poi finisce è che il discorso sugli stipendi non me lo voglio portare nel prossimo campionato e dato che una penalizzazione sugli stipendi me l'aspettavo e sulle plusvalenze no ora datemi tutta una penalizzazione in questo campionato fatemi una multa col patteggiamento in questo campionato dichiarazione di colpevolezza sì va benissimo d'accordo Juventus ammette di aver fatto perché tanto non ha strade alternative non può muoversi da questa cosa qui i punti li avrà in questa stagione ce li avrà fine saranno punti molto probabilmente che ti toglieranno dall'Europa che conta o comunque dall'Europa punto perché anche qua poi se la pena deve essere afflittiva ma 15 sono troppi allora però la classifica nel momento è mutata e allora che cosa succede forse allora dobbiamo toglierne magari anche più di 15 cioè sarebbe bellissimo adesso vincere quattro partite di fila e vedere gli altri che le perdono tutte e arrivare a più 15 e quindi devi toglierne 16 e quindi 15 erano troppi ma se deve essere afflittiva ne devi togliere 16 sarebbe veramente bello non succederà perché non succederà però sarebbe veramente bello sarebbe interessante e divertente quindi in questo momento prenderei in considerazione un patteggiamento sul discorso stipendi datemi tutti i punti in questa stagione tanto l'abbia rovinata questa roviniamola fino in fondo roviniamola fino alla fine fino alla fine la roviniamo la roviniamo buon punto distrutta dalla prossima stagione però iniziamo a respirare ricominciamo a a capire un po' di più lato calcio rimaniamo fuori dalla coppa un anno magari due perché l'anno prossimo non ci qualifichiamo iniziamo a ricostruire perché il rischio adesso qual è rovinata questa stagione perché ti penalizzano vai avanti col discorso stipendi magari ti danno una penalizzazione nel mezzo del prossimo campionato nel frattempo tu la Champions non la giochi perché la penalizzazione di plus valenza te l'ha tolta non giochi la Champions ti danno una penalizzazione anche in campionato cosa giochi a fare al prossimo campionato che non c'hai le partite infrasettimanali perché magari non vai a giocare in coppa e in Serie A c'è un'altra penalizzazione che magari sarà e secondo me sì perché sul lato stipendi ero molto più preoccupato più grossa cosa facciamo ne roviniamo due che diventano tre perché comunque questa penalizzazione magari non ti fa riqualificare la Champions quindi facciamo due anni senza Champions e roviniamo tre stagioni io non non vedo modo in questo momento per la Juventus di uscire in maniera completamente linda e pulita da questa situazione secondo me non c'è poi io non sono un avvocato non sono un esperto di diritto però le motivazioni di oggi del CONI di ieri del CONI mi sembrano parlare chiaro vanno a confermare praticamente tutto quello che avevano detto in una prima battuta nel processo che aveva portato almeno 15 e quindi sostanzialmente anche per il CONI anche il ricorso anche per loro ci sono queste cose qui ci sono queste cose qui che portano dei punti di penalizzazione e semplicemente ora la Corte Federale d'Appello dovrà solo capire quanti saranno l'unica cosa è che probabilmente 15 hanno troppi l'assunto grosso è questo qui 15 erano troppi quindi di tentativarne qualcosa di meno non lo so vabbè ragazzi forza e coraggio arriveranno tempi migliori però però che palle che palle grosse perché speravo e forse sono stato un po' troppo ottimista io che potesse esserci scritto qualcosa di diverso sulle motivazioni invece sono oggi molto molto rassegnato molto molto abbattuto perché sono davvero convinto che la Juventus abbia perso e non era stata la mia sensazione anche in seguito alle parole che c'erano state del procuratore Tuchel non mi ricordo come si chiama perdonatemi al seguito del ricorso in cui si faceva capire che effettivamente sì c'erano state delle irregolarità che però non c'erano basi per dei punti di penalizzazione per la Juventus o comunque così tanti perché conto sai ti tolgano 2-3 punti e dici vabbè sti cassi te ne tolgono 15-10-12 inizia a diventare abbastanza scomodo e pesante soprattutto per un discorso che ripeto per quanto mi riguarda dovrebbe aprire un vaso di Pandora enorme nel calcio italiano perché se c'è la volontà di andare in fondo a questa cosa ci si va però poi l'articolo 4 non può scattare quindi al massimo facciamo una bella multa a tutta Italia e a terra la Juve che gli togliamo dei punti meraviglioso sì proprio si sta facendo giustizia in questo modo sì sì grazie a tutti